È stata una mattinata di allegria, quella che ha caratterizzato il sabato mattina al centro commerciale di Bellocchi di Fano. Una carica di divertimento, spensieratezza, unita tanta musica, ha intrattenuto e attirato i visitatori del centro commerciale, che hanno immortalato con i propri cellulari la sfilata e lo spettacolo musicale della strampalata banda musicale. Si tratta della musica arabita, componente fondamentale del carnevale fanese, che nel 2023 ha festeggiato i suoi cento anni. Qui siamo nella galleria Fano Center, che tutti i sabato mattina agliatiamo un po' chi vengono a fare le compre e facciamo un po' di promo per la nostra musica arabita. Qual è l'elemento più strano che suonate? Gli elementi sono tutti strani perché potete anche inquadrare, ci sono i tamburi, ci sono le furbici, ci sono i martelletti, tutte le cose che facevano una volta in casa che abbiamo riportate per fare la parte ritmica della musica arabita, quanto ci sono gli strumenti. Diciamo che per 3Domending fate letteralmente divertire i fanesi e non solo. Comunque quanto passiamo noi vediamo che la gente ci acclama, gli piace la musica arabita alla gente perché porta allegria naturalmente. Siamo un tour de force adesso perché siamo alle 3 domeniche del carnevale, poi abbiamo giovedì grasso, martedì grasso, quindi abbiamo da correre. Poi quest'anno 101 anni. Quest'anno abbiamo fatto, l'anno scorso abbiamo fatto 100 anni, quest'anno sono 101. Ciao a tutti e buon carnevale! All'interno della galleria anche una mostra che ripercorre con le sue 26 immagini e 8 oggetti la storia della banda musicale. Per noi è un onore partecipare al carnevale di Fano, essere parte attiva dell'evento della città, l'evento più importante, uno tra i più importanti della regione. Facciamo parte di questa comunità da 30 anni, il centro commerciale presente dal 94 e per noi è una forte sinergia che creiamo ogni anno con il territorio. Quindi è un grande onore ospitare oggi la musica arabita, ospitare la mostra ed essere parte attiva anche nell'organizzazione del carnevale con l'ente carnevalesca.